Ben ritrovato a tutti, chi vi parla è il Cavaliere Attilio Delisa da Sanza e con questo video voglio onorare la memoria di Aldo Morio, in quanto per sette anni ho ottenuto una segreteria cittadina per il partito dell'Udeur di Clemente Mastella e dell'Italia dei Valori di Antonio di Pietro in memoria di Aldo Moro e in questi anni ho avuto l'onore e l'elogio di conoscere anche la figlia Agnese Moro dove ci siamo conosciuti a Benevento nel 2008 giusto a trent'anni dalla morte dell'ex democratico cristiano di cui prima mi sono identificato anche politicamente e simpatizzante e adesso essendo un cattolico cristiano praticante ho smesso di fare politica e quindi sono legato solo alla Chiesa Cattolica e alla Santa Sete che fanno capo alla mia diocesi di Teggiano Policastro di cui faccio riferimento a Monsignor Antonio De Luca. Saluto tutti e alla prossima.